Beh signore e signori, non c'è che dire, l'alpargo ha un nuovo re, un dominatore, che se è stato capace di primeggiare con il campione del mondo, Lino Schuster, siamo veramente tutti curiosi di vedere cosa ci fanno vedere a cominciare dalla settimana prossima. Cominciavo un applauso, su, bravo, su, inene, nell'allgarto, e in modo di Plano Schuster! ее! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno!